Sulle spiagge isolane pesa anche l'emergenza dell'erosione delle coste. Perché non si riesce ad intervenire? Ah ma questa non è una domanda che devi porre a me, dovresti porre agli antipreposti. E da anni, guarda, te lo posso assicurare, è quello che dico non può essere smentito perché ci sono gli atti al comune. Ti faccio l'esempio su tutti. Vi a Giovanni Mazzella, il sottoscritto nella passata esperienza amministrativa dal 2003 al 2013. Io ero delegato, prima come consigliere, poi come assessore, ma anche come vice sindaco alla protezione coste. Ho fatto decine di sopralluoghi con la città metropolitana e con la regione in quella zona mettendo in risalto quello che era il pericolo imminente che già all'epoca, stiamo parlando di dieci anni fa, stava in quella zona. E ho chiesto ripetitamente agli antipreposti, in particolar modo alla città metropolitana, di fare interventi seri, interventi seri, non quel tipo di intervento che è stato fatto qualche anno fa con quel lavoro, con quel muraglione fatto in quel modo. Perché penso che non ci vuole un ingegnere, un architetto, un esperto, ma anche un profano come me. Io sono esperto, ho fatto tutto un altro ramo di istruzione per capire che era un lavoro fatto male, un lavoro raffazzonato. Cioè fare un muraglione senza fare i pali, gettando una trave su un costone friabile, io ho tutta la convinzione che sono stati i soldi buttati a mare. Senza l'adeguata protezione, e per protezione si intende scogliere, o scogliere o ricarica della scogliera esistente, per far sì di rompere quello che sono le forze delle onde. Altrimenti possiamo fare tutto quello che vogliamo, però contro la natura, se tu non metti in essere le adeguate alternative, tu perdi solamente tempo. Però fino ad ora, ahimè, purtroppo il risultato è quello che è, è sotto gli occhi di tutti. Ci stiamo avvicinando alla prossima stagione turistica, con un'arteria come quella lì, che è fondamentale per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda la possibilità anche dei turisti di raggiungere una località rinomata come quella di Citara, Cava dell'Isola, che adesso possiamo avere come fruibilità soltanto a metà. Aspettiamo, vediamo un attimo adesso, io spero che nella prossima tornata elettorale, con la nuova amministrazione che si insederà al Comune di Forio, possiamo essere un poco più incisivi nei confronti di questi entri sovracomunali, perché come dicevo prima, quelli sono interventi che non possono in nessun modo rientrare nel bilancio comunale. Possiamo essere più incisivi e far sì che una volta per tutti si risolve il problema dell'erosione che non riguarda soltanto la zona di Citara, è bene che ce lo diciamo, ma riguarda pure la zona di San Francesco, riguarda pure la zona del Fortino, insomma, e anche altre zone dell'Isola Dischi. Purtroppo gli eventi sono cambiati, c'è stato questo mutamento climatico, c'è stato. Lo sappiamo tutti e lo guardiamo sotto gli occhi di tutti che determinati eventi di una certa portata, mentre nel passato si verificavano ogni 30 anni, adesso purtroppo la frequenza è diminuita. Adesso ogni 6 o 7 anni assistiamo a degli eventi atmosferici di una certa gravità, quindi se noi non mettiamo in essere tutte quelle che sono le nuove tecnologie per contrastare questo fenomeno, io penso che la situazione può solamente peggiorare.